video da role player, com'è sta video da role player? c'è lo sfondo del re è morto ciao a tutti siamo tornati per parlare di arconate, che schermata ho preso? aspetta questa è quella con cui abbiamo parlato a cosa? non ne ho una? di metatopia o metatopia come dici tu, ho metatopia non è esattamente la migliore però è quella che ci somiglia di più no allora perché filippo non vieni ad arconate ricordiamo che c'è arconate il 2 3 dicembre e ci saremmo tutti forse anche filippo ma non lo so se ci sono intanto vediamo e parliamo degli slot dei giochi che ci sono perché parlando dei giochi che vengono organizzati nella convention dice molto della convention ma nel bene dico questo nel bene allora io attiro due aree per cui c'è c'è tutto il mondo indie per cui non so c'è 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 daniele di rubbo che ad esempio sempre la sabato sera porta tra i giochi che ha scritto lui tutti brevi per fare una sessione cioè in cui gli giochi tutti e tre sostanzialmente fa questa cosa oppure c'è roberto che porta moto v uscito io che metto war sono stati postati dappertutto sono stati postati ma io non 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 ci sono in quella chat c'è la testa chat dove ha parlato di foco non c'è foco ma ci sono due due link alla cosa mentre tu vuoi vedere io aggiungo il carico perché anch'io porterò le mie solite robe cioè la triade delle meraviglie super facili da fare witch demon e memento che vado inserirò e vaffanculo però voglio portare anche rusalca quello di cui ci ha portato camilla ho letto il gioco ed è molto carino ed è e quindi lo porterò anche perché è semplicissimo da giocare come si chiama hai detto scusa rusalca mi sa che c'è già uno slot mi sa che c'è già uno slot ma bravissima chi è che lo porta lorenzo trenti sì lorenzo mi sembra che lo porta grande lollo grande lollo tanto c'è anche lollo cioè potete farvi autografare la pancia da lorenzo trenti uno dei grandi vecchi che non ce la tira ma tra l'altro la mia demo di moto bushido ho una pressione addosso sarà con lorenzo trenti otirida e un'altra persona che si chiama umano non conosco hai voluto la fama alla fama porta con sé delle responsabilità grandi poteri derivano guarda per l'occasione ci sarà anche il firma copie di leggenda metropolitana l'ha messo al sabato sera lorenzo si è sempre lorenzo porta anche clink che l'ha messo al sabato mattina poi oltre a questo in realtà attiro anche come sapete da adesso della scena osr o amici di là ho chiesto alleanza osr pizza se per caso volevano venire e volevano fare qualcosa per cui ci saranno sia loro e anche roba osr tra cui tra l'altro io stesso che se il sabato sera che è un momento in cui riesco di solito liberarmi porto war ma anche alla domenica pomeriggio magari non proprio tutto lo slot ma in parte dello slot riesco sempre a rimanere libero e ad esempio lì faccio fare una partita a mano sinistra che invece è il mio gioco recentemente uscito osr per cui c'è anche roba osr scusa un attimo ma visto che stiamo facendo una cosa bella allora intanto ricordo a tutti di sostenere il canale questo è gdr unplugged abbiamo patro abbiamo twitch abbonatevi ok ma arconate spiega in due parole cos'è arconate perché io poi pubblicherò questo video su youtube ma allora arconate è una convention direi una convention ormai old style nel senso che che fu una delle tre convention originali nate ai tempi in cui iniziò al movimento possiamo anche dirlo così cioè forgita indie in italia gli altri due erano internoscon e detruscon una delle tre è sempre stata una convention un po io l'ho sempre definita più che una convention piccola proprio una classica riunione in cantina con gli amici diventata troppo grossa non mi è sempre stata un po così perché la finestra sempre stati in tre a organizzare negli ultimi anni io e che c'è ormai da bo qui 15 16 anni di una roba del genere in realtà si è fermata per tre anni per il cobit perché perché una convention che faccio né all'interno del centro anziani di arconate è questo paesello che è il mio paese d'origine provengo di cinquemila persone a cavallo tra il milanese il baresotto in quello che in gioco si chiama l'alto milanese lì c'è stato ai tempi avevo una un'associazione ludica che poi in realtà è andata a morire proprio tipo il secondo o terzo anno che avevo organizzato l'arconate e con quella avevo iniziato quello ma io ero già nel movimento indie italiano per cui ho un po richiamato la gente da lì poi io ho anche trascorsi nel fine circus per cui a tuttora vengono persone che militavano un tempo nel fine circus lorenzo 30 uno di quelli e attirando questo ambiente ho creato questa convention che di solito è molto piccola e frequentata se volete nei singoli slot è raro che ci siano più di 25 30 persone spesso molto meno alcuni slot magari la domenica mattina che è una meno frequentata è possibile che ci siano anche a massimo una decina di persone ma che c'è storicamente da sempre cioè veramente gli unici anni in cui non l'ho fatta sono stati tre anni di cobit perché proprio non potevo tutto tutto il comune di arconate era bloccato non si poteva organizzare assolutamente nulla e in quei tre anni non mi sono azzardato ma anche perché mi avrebbero detto di no di prendere spazio lì dentro è sempre stato nel centro anziani pensionati in realtà c'è una sala comunale che che è gestita o meglio la cosa divertente perché è proprio il trascorso degli anni nei primi anni ero in questa sala al primo piano da molto grande molto ariosa poi dopo quella sala è stata temporaneamente di vita biblioteca temporaneamente che ha durato tipo dieci anni e solo l'anno scorso siano ritornato di nuovo in quella sala lì perché nel frattempo ci avevano messo la biblioteca ci avevano piazzato in in quella che in teoria è la palestrina del centro anziani e in realtà è un semi interrato per cui c'è questa sorta di dungeon sotterraneo in cui si giocava adesso dall'anno scorso siamo invece tornati su nel frattempo è stata anche ristrutturata per cui è più grande più più luminosa ci sono dei finestroni per qui in effetti è un po più godevole rispetto a com'era nella palestrina sotto questa è l'arconate poi la due o tre caratteristiche tipiche nel senso che siccome è un posto dimenticato dal signore c'è un paesello della pianura alto milanese io di solito li creavo dei panini l'anno scorso non l'ho fatto perché ero da solo e per cui ho semplicemente comprato dei tramezzini ma di solito creavo dei panini infatti al momento è che vendevo più o meno al prezzo di costo se uno non voleva uscire per andarci a cercare una pizza o tentare la fortuna sperando che un ristorante fosse aperto uno dei tre ristoranti del paese fosse aperto ed è tipica anche perché di solito c'è sempre qualcosa di eco solidale perché ci ho sempre tenuto e birre telesche e belghe di scelta peculiare per cui delle cose che non sono gioco ma che in qualche modo la caratterizzavano sulle nostre passioni volevo chiederti visto che è in periodo ti va anche adesso ne parleremo insieme però se portassi qualche calendario dell'avvento per nessun problema anzi anzi molto volentieri visto che siete molto favorevoli a queste iniziative come commercio eco solidale comunque cercate di fare un'attenzione anche a le visto che anche l'evento è pro giocatore a differenza magari di altri eventi che tendono ad essere più commerciali ok per cui magari potremmo effettivamente collaborare anche da questo punto di vista sì 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 volentieri volentieri molto molto allora eventi vedo tintinio di lorenzo trenti però se può essere che il traduttore abbia tradotto un titolo in inglese palude di cemento resta palude di cemento ok ecco network 23 che è una specie di motore italiano fatto da un ragazzo italiano alex bocchetto cyberpunk è il cyberpunk osr ok vedo un sacco tra l'altro daniele porterà l'ultimo bacio che è il gioco che ha anche proposto per il calendario dell'avvento per cui tra l'altro faremo poi la battle royale fra me e lui perché anche io per il calendario dell'avvento ho scritto un gioco per due giocatori sui vampiri e il suo è su un vampiro e una preda umana il mio invece su due mortali che hanno una relazione tossica con lo stesso vampiro e il vampiro non viene giocato cosa ci dice di voi questa cosa beh in effetti dice ma di me dice molto quindi è un gioco personale quello che ma se tu venissi ad arconate che gioco porteresti allora è una one shot potrei portare o il re è morto visto che mi sto acclamato a gran voce di descrivere come il dannato gioca il re è morto se no potrei portare ce n'è uno in realtà che vorrei tanto giocare che si chiama zona roca non so se lo conoscete no mai sentito fondamentalmente un gioco con l'ambientazione diciamo cyberpunk per dicere è molto poco punk ma è molto cyber i giochi delle prostitute e però è un gioco però è cioè è da trattare in modo serio in realtà e c'è un meccanismo di spirale qua zona roca è un one pager ma è un one pager molto strutturato in realtà è c'è un meccanismo di interazione di risorse a spirale è molto c'è c'è poco ma che funziona però non l'ho mai cioè dico sulla carta poi non lo so e non ho mai giocato e penso che come one shot possa essere piacevole quindi potremmo provare quello questo designer qui mundus infinitos in realtà è un designer mi pare proprio brasiliano fa delle cose molto interessanti sono tutti dei one pager così ma molto strutturato molto strutturati molto meccanici con delle meccaniche che ti si intromettono molto nel gioco come piace a me e cos'altro potrei portare basta perché poi parlo di robe che poi non porterò quindi è inutile ci ritroviamo poi la sera mangiamo qualcosa assieme facciamo un po' di bagordi dai che ci ritroviamo facciamo come i vecchi tempi come prima delle cose penso che io ho fatto solo uno slot di motobuscido avrei potuto farne due pieni e invece mi lascio il pomeriggio libero per chiacchierare libero per per giocare a zona roca facciamo una live di c'è la connessione inter facciamo la live di gdr unplugged da lì e se non siamo più nel del dungeon può essere che prenda nel dungeon mi sembra che non prendeva sì 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 invece su prende tranquillamente tra l'altro non so se l'hai detto ma fondamentalmente l'iscrizione è gratuita alla con per cui uno può proporre un gioco oppure venire a giocare iscrivendosi ma totalmente gratuitamente cioè poi è invitato a sostenere comprando qualcosa mangiare cibo sì poi dico la verità fondamentalmente non è che abbiamo chissà che costi giusto il minimo in realtà sostanzialmente perché la sala ha detto onestamente ce la offre il comune no sì certo certo parlo di tu no ma roberto che deve tornare in germania come fa roberto a tornare in germania senza dinero eh roberto come fai il viaggio della speranza? porterò leggende metropolitane da vendere lì sul posto ma questo è leggende metropolitane di cui parlo come lo definiresti se tu dovessi dire una frase per cominciare a stossicare il post moto bushido? è il gioco che ha sverginato il dannato è già questo beh è già questo è già questo mi prego che mi piace potremmo dire che leggende metropolitane è ormai diventato negli anni a sua volta una leggenda metropolitana esatto visto che sono l'unico che l'ha giocato quel gioco tra l'altro io è il gioco dei film action sostanzialmente non l'avevo non l'avevo giocato ma avevo fatto tutto avevo fatto tutta una serie di commenti analitici forse ai tempi però ma da quella volta è cambiato sì sì infatti infatti per quello per quello dico che a sua volta è diventata una leggenda metropolitana perché è voluto nei tempi e comunque si deve è una cosa che esiste nei nostri cuori è un luogo della mente non è un posto comunque sta avvicinando pericolosamente mezzanotte quindi in realtà vi lascio a continuare a parlare lascio anch'io vi saluto perché a questo punto verso mezzanotte direi che è ora di chiudere abbiamo fatto questa piccola chiacchiera invitiamo tutti a venirci a trovare a Dalconate il 2-3 dicembre dove ci troviamo tra amici a giocare a chiacchierare a cazzeggiare perché no quest'anno c'è la combinazione che io sono libero Roberto riesce a scendere Jacopo c'è ma è dannato manchi solo tu e lo so manco solo io però vabbè adesso vediamo promettimi allora io non voglio che mi prometti che ci sarai voglio che mi prometti che farai di tutto per esserci ma che promessa è allora sembri Camilla quando doveva sponsorizzare il tuo canale ti ha detto no 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 scusami sì giustamente dicevo voglio capire cos'è prima di fare il mio endorsement no no secondo me sapeva bene cos'era e per questo avevo modo per non farlo ditemi cos'è ma che altro Camilla l'hai conosciuta tu per primo no? tu che? io sì eh quindi probabilmente sapeva già del tuo canale no perché non glielo ho mai detto va bene salutiamo va bene grazie venite al conate venite al conate sarà super super intima ma non salutare tutti nudi ciao